È una partita che io chiudo qua, quindi contento di questa vittoria, ma sto già pensando a sabato come lo devono fare i miei calciatori, glielo ho detto negli spogliatoi, non mi ha fatto niente, mi ha fatto un'ottima partita, una partita difficile, siamo venuti su un campo difficilissimo dove tutte le squadre che sono venute qua hanno sofferto veramente tanto e credo che forse stasera per la prima volta il Cittadella sia stato in grande difficoltà. L'abbiamo pressati, dall'inizio abbiamo sfiorato il gol più volte, abbiamo preso due pali, due o tre parate di paleari, abbiamo sfiorato tante volte il gol del vantaggio, poi sulla prima, purtroppo, rimpallo in area di gol abbiamo subito gol, però non ci siamo assolutamente disuniti, avevo detto ai ragazzi di non farci condizionare dagli episodi, né positivi né negativi, perché noi abbiamo le potenzialità e le capacità di fare tutto, quindi pensiamo a noi, l'abbiamo fatto e a fine primo tempo questo è stato quello che ci siamo detti e abbiamo iniziato il secondo tempo così come abbiamo iniziato il primo, quindi giocando, creando tanto, non siamo riusciti purtroppo a capitalizzare, poi con la loro espulsione abbiamo preso campo sì, ma paradossalmente si sono intesati gli spazi che Cittadella, che è abile a compattarsi, a difendersi, si è messo lì, serviva la giocata del singolo, serviva trovare l'errore individuale, serviva pazienza e calma per aspettare di trovare un varco, uno spazio sull'esterno oppure tra le linee e credo che l'abbiamo fatto bene, perché abbiamo sfiorato più volte il gol del pareggio e poi abbiamo approfittato di un loro errore e poi su una grande giocata di Roberto insomma abbiamo vinto la gara, credo il tutto assolutamente meritatamente, quindi ho visto una squadra stasera matura, non condizionata ripeto dagli episodi e questo è quello che dovremo fare da qui in avanti perché se vogliamo arrivare fino in fondo dobbiamo dimostrare di essere bravi, i più bravi, i migliori e quindi queste partite ci fanno piacere ma le accantoniamo sabato, altra battaglia, arriverà una squadra che cercherà di giocarsi tutto per tutto quindi partiremo per vincerla senza fare calcoli, senza niente, noi dobbiamo giocare sempre per vincere. Prima delle domande da studio, mister, le chiedo anche se c'è un po' di rabbia per un primo quarto d'ora, ha giocato davvero bene e poi alla prima indecisione anche su una dubbia soluzione perché nasce tutto da un fallo che poteva anche non essere fischiato, ho visto anche rabbia da parte sua è passato lì anche il momento della difficoltà lungo il primo tempo. Sì, la rabbia è quella di non aver capitalizzato ma abbiamo preso due pali, c'è stata la grande parata del portiere su un tiro, non mi ricordo se era di coda o di bandinelli, forse abbiamo sferato due tre volte il gol ci hanno murato qualche volta ma questo è successo anche nel secondo tempo ricordo due o tre tiri di Ricci dove si sono buttati loro a kamikaze questo fa parte un po' delle partite, bisogna essere bravi a capitalizzare che poi l'episodio purtroppo può essere positivo o negativo nel primo tempo è stato negativo perché un rimpallo tra Maggio e Teio la palla è rimasta lì e la prima volta che entravano in area di rigore tra l'altro su una punizione quanto dubbio perché a me sembrava che Viola avesse preso nettamente la palla però fa parte di una partita e purtroppo abbiamo concesso un gol che poteva farci male come ci ha fatto siamo stati bravi a riprenderla, ripeto, meritatamente a portare gli episodi dalla nostra parte Da vera squadra questo risultato, lo studio, le domande? La scelta quest'anno di avere un organico comunque sia ricco di soluzioni e in certi momenti mette in difficoltà anche l'allenatore perché lasciare fuori giocatori importanti non è facile però credo che tanti di loro siano maturati quest'anno perché neanche nei momenti difficili in cui magari non ti senti valorizzato magari non ti senti fondamentale anche se poi non è così perché poi ne possono giocare solo 11 inevitabilmente bisogna fare delle scelte però il giocatore magari non si sente scelto e è in panchina o non gioco con continuità normale che possa non sentirsi soddisfatto al 100% però in quei momenti lì credo che molti e tra questi sicuramente Roberto come Federico siano diventati sicuramente più forti più forti come calciatori, più forti come uomini hanno saputo accettare e convivere magari con delle scelte che a volte li ha penalizzati e come stasera farsi trovare pronto e decidere di terminare la gara questo credo che sia per noi una risorsa lo è sempre stato e ora più che mai in partite così importanti lo dovrà essere in partite come queste dove è vero che sono andata a ritorno ma fondamentalmente su tutte gare secche gli episodi ovviamente possono spostare gli equilibri quindi da subito credo che si dia l'indirizzo alla gara in modo tale che non ci siano entrate o speculazioni di ogni genere quindi credo che abbia interpretato bene la partita poi sicuramente a fine gara qualche errore tutti lo commettiamo noi allenatori, i calciatori, l'arbitro però ripeto quando c'è una coerenza nell'andamento della gara lo si accetta la partita col Palermo io mi ero lamentato tra virgolette di una non coerenza c'erano stati tanti fischi nei confronti dello stesso giocatore magari non puniti con un cartellino quindi insomma magari nel volume della gara poteva pesare però ripeto stasera credo che sia stato uniforme e coerente nella conduzione quindi anche lui credo che abbia svolto molto bene il suo compito Medderos è stato fortunato perché non c'era più negli spogliatoi perché stasera con lui sono veramente molto arrabbiato perché per noi è un giocatore importantissimo ed è un giocatore anche esperto quindi non può commettere questa ingenuità in un momento del genere della partita perché magari è una stupidità che rimette in discussione tante cose e noi non dobbiamo avevo detto ai ragazzi di avvicinarci alla perfezione di commettere zero errori specie in una situazione del genere quindi da un giocatore come lui non lo accetto ora ovviamente non è da condannare però sicuramente stasera se non dorme è giusto che sia così grazie 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 grazie